Musica Un corrigale saluto a tutti voi da Sara Zambona, eccoci all'appuntamento con le informazioni della Lombardia di 1TV News. Come è annunciato ampiamente, il maltempo è arrivato puntuale sulla Lombardia a partire dalla serata di ieri. Alessio Belleri è uscito in perlustrazione nel Castanese con i volontari della protezione civile. Vediamo. Temporali e forti piogge fin dalle prime ore di questa mattina e allora scattano le attività di verifica e monitoraggio sul territorio. Siamo con la protezione civile di Magnago, che tipo di attività stiamo andando a fare? Ciao, sono Paolo, coordinatore di Magnago. Questa mattina è scattata l'alerta arancione e il ROC ci ha invitato a fare controllo del territorio. Stiamo quindi uscendo insieme a altri due colleghi per verificare che i sottopassi di cui ce ne sono due a Magnago siano a posto e eventuali problemi legati alla caduta di rami o di piante, oltre a eventuali formazioni di buche dovute all'acqua a Piovano. Abbiamo controllato qui questa strada piuttosto rischiosa e noi stiamo a vedere i sottopassi. Quindi fai San Martino, poi giriamo dietro al campo sportivo e facciamo il sottopasso, quello che porta all'U2. Quindi diciamo che in caso di pioggia come oggi le problematiche più grosse riscontrate qui in paese sono quelle dei sottopassi e degli alberi? Esattamente quelli, non abbiamo altre problematiche e questi controlli sono appunto mirati a prevenire eventuali interruzioni di strade. Qualora ci sia un'emergenza, voi siete pronti a intervenire, che cosa farete? Quali saranno poi eventuali interventi? Poi ovviamente in base a quello che troverete. In questo momento siamo tre colleghi che ci siamo mossi ma abbiamo a disposizione altre tre persone pronte a intervenire con motoseghe nel caso di cadute di alberi o rami, con idrovore nel caso di allargamento del sottopasso e con anche limitazione dei percorsi nel caso in cui ci siano problemi sulle strade. Prendiamo poi la strada, andiamo al cimitero di Magnago, facciamo il giro lì al parco, cimitero di Bienate e dopo di che torniamo in sede. Non rileviamo nessun problema. Ma dalla vostra esperienza la situazione è abbastanza tranquilla comunque oggi? Direi che è piuttosto tranquilla perché comunque non vi è vento forte e quindi le problematiche legate a cadute di rami si riduce notevolmente. Rimane ovviamente il rischio di allargamento dei sottopassi che in questo momento mi pare poco probabile visto che è diminuita poi l'intensità della pioggia. Quindi proseguiamo questa attività di controllo e di verifica sul territorio, un'attività importante da parte della protezione civile. Anche a Milano è rimasta ore sotto la pioggia. La città fin da questa mattina si è svegliata con raffiche di vento in concomitanza con i temporali. Si sono registrati allagamenti anche presso il Tribunale con autobloccate, sottopassi allagati, tombini straripanti con numerose chiamate di soccorso ai vigili del fuoco. Il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile Milanese è attivo da ore per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi da svolgere su tutto il territorio cittadino e non solo. Il Seveso ha straripato superando la soglia di attenzione ed è stata quindi attivata la vasca anti-esondazione. E' importante ricordarsi di non sostare sotto o nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature dei tanti cantieri presenti sul territorio Deor e anche Tende. Si invita la popolazione a provvedere alla messa in sicurezza di oggetti esposti su balconi terrazzi come vasi e manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. E' importante inoltre fare attenzione ai fenomeni meteorologi avversi anche in caso di partecipazioni ad eventi all'aperto al fine di prevenire tutte le possibili situazioni di pericolo che possano verificarsi in caso di allerta. Il maltempo appunto si sta ripercuotendo sul trasporto ferroviario come ci ha segnalato il nostro primiano Mandunzio in questo video. Ci troviamo alla stazione di Milano-Rogoredo dove c'è un ritardo imprecisato sulle linee suburbane S1-S13 per Saronno. Purtroppo per problemi di allagamento tra la stazione di Milano-Rogoredo e Milano-Porta-Vittoria i treni sono bloccati come potete vedere dalle immagini in stazione Milano-Rogoredo. Molti pendolari fermi e bloccati che non riescono a ritornare alle proprie case perché proprio per la mancanza di treni nel passante. Abbiamo chiesto al personale di Trenord informazioni a riguardo il blocco che c'è, ripetiamo, tra Milano-Rogoredo e Milano-Porta-Vittoria. Ci è stato detto che le squadre stanno intervenendo con dell'idrovore per portare via tutta l'acqua accumulatasi in stazione. Per precisazione tra Rogoredo e l'ingresso in stazione di Milano-Porta-Vittoria c'è una discesa. Conseguentemente immaginiamo che l'acqua, che è piovuto fino a un'oretta fa, si sia accumulata in modo consistente proprio nella stazione di Porta-Vittoria. Dalla stazione di Milano-Rogoredo è tutto. Sperando di tornare anche noi a Saronno, restituiamo la linea allo studio. Come molti di voi sapranno, a Busto Assizio, sottopassi allagati per il maltempo in zona stazione Ferrovie dello Stato non sono una novità. Ma questa volta ci sono anche due veicoli rimasti intrappolati nell'acqua alta. Un'automobile e un furgone non hanno infatti fatto in tempo ad evitare l'ondata di piena del sottopasso ferroviario di via 20 Settembre che si è allagato a causa delle forti precipitazioni di questa mattina. Fortunatamente l'acqua non è arrivata a sommergere totalmente i veicoli prima che gli occupanti potessero abbandonarli. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e sono state posizionate delle tranzenne con il divieto d'accesso. Anche il sottopasso di via Tasso si è allagato con l'acqua che in questo caso è arrivata quasi fino al soffitto. Sempre a Busto Assizio i poliziotti del commissariato di via Foscolo hanno fermato un cinquantenne italiano senza tetto che ogni tanto si appoggia al dormitorio della stazione Ferroviaria che aveva rotto con un bastone il finestrino di un'auto posteggiata in via Mameli per cercare di rubare all'interno dell'abitacolo. Un residente della zona lo aveva avvistato mentre si aggirava furtivo nei pressi delle auto parcheggiate ed aveva allertato il 112. L'uomo è un habitué da questo punto di vista dato che ad aprile di quest'anno aveva saccheggiato la chiesa parrocchiale di San Giuseppe ed aveva poi commesso una decina di altri furti in diverse auto per i quali era già stato arrestato. Nella mattinata di oggi il cinquantenne è comparso davanti al tribunale di Busto Assizio dove ha patteggiato una pena a otto mesi di reclusione. I pazienti che non si presentano il giorno dell'appuntamento fissato delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate per effettuare una visita medica o un esame senza una giustificata disdetta saranno tenuti al pagamento del ticket che sarà richiesto anche a coloro i quali hanno diritto all'esenzione. Questo nell'ottica delle nuove disposizioni finalizzate a migliorare l'efficienza del sistema sanitario nazionale e a ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni. In Lombardia, ha detto l'assessore al welfare Bertolaso, grazie all'intenso lavoro di recall messo in campo dalle nostre strutture e dal call center regionale siamo riusciti a ridurre il cosiddetto no show al 10% rispetto al quasi 20% che avevamo registrato lo scorso anno. Si tratta di un risultato importante raggiunto anche con attività di sensibilizzazione verso i cittadini. Per arrivare a ridurre maggiormente il fenomeno possiamo ora utilizzare lo strumento dissuasivo della legge che prevede il pagamento del ticket della prestazione non annullata anche per chi usufruisce di un'esenzione, la maggioranza dei pazienti. La cancellazione deve avvenire almeno due giorni lavorativi prima della data fissata, anche da remoto, in modo da ottimizzare le agende di prenotazione e migliorare la disponibilità delle risorse. La sala Franco Brigida di Palazzo Marino a Milano ha fatto da cornice la presentazione dell'edizione 2024 di Expo per lo Sport, una weekend all'insegna della promozione sportiva nel cuore di Milano nell'inconfondibile location del Parco Sempione. L'incontro è stata l'occasione per raccontare tutte le iniziative previste per la decima edizione della manifestazione grazie agli interventi di figure istituzionali, degli organizzatori, delle aziende partner e delle università che insieme collaborano per regalare a questo evento a Milano e i suoi cittadini e quindi per approfondire vediamo insieme il servizio a cura di Marco Este. Praticare sport promuovendo uno stile di vita sano all'insegna del rilancio dei valori sportivi, dell'inclusione, della socialità e della sostenibilità, oltre che dell'attività motoria all'aperto. E' questo l'intento dell'edizione 2024 di Expo per lo Sport, la manifestazione sportiva dedicata a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, presentata nella Sala Franco Brigida di Palazzo Marino e che si svolgerà in Parco Sempione sabato 7 e domenica 8 settembre. Quest'anno l'amministrazione ha dimostrato di essere veramente un'amministrazione attenta, penso all'assessorato al decentramento gestito dall'assessora Romani che ha fatto veramente un lavoro importante per riuscire a portare in periferia un evento che era centrale, ovviamente senza dimenticare l'assessorato allo sport, l'assessorato arriva e gli altri assessorati coinvolti come l'educazione insieme alla vice sindaco Scavuzzo. Credo che un evento del genere non è un evento sportivo, è un evento di cultura, è un evento educativo, è un evento che fa dello sport un vettore per arrivare lì dove la politica magari non riesce ad arrivare, lì dove il pubblico non riesce ad arrivare. In Italia ci lamentiamo molto spesso che le amministrazioni, le istituzioni non riescano a raggiungere i fabbisogni delle persone, ecco noi insieme a Nicola siamo riusciti a provare a fare questo e l'obiettivo è riuscire ad accontentare e riuscire a dare un servizio a una comunità che a volte si sente esclusa e che invece credo che in questo momento attraverso lo sport, attraverso l'educazione e la cultura possa includere più bambini possibili. Avvicinare i giovani allo sport è una delle finalità di Regione Lombardia che esprime grande soddisfazione per l'inaugurazione della decima edizione di Expo per lo sport. Sono felice di questa inaugurazione poi a Palazzo Marino, una sede storica milanese e il fatto che questa edizione è ancora più ricca soprattutto per l'attività delle piazze, quindi delle periferie, del fatto di avvicinare soprattutto le realtà magari un po' più difficili, quindi le piazze più lontane a queste pratiche sportive che abbiamo visto con le Olimpiadi scaldano i cuori e riescono a motivare i nostri giovani ad essere sempre migliori, riescono a dare dei valori senza essere dogmatiche ma riescono veramente a dare tanto ai nostri giovani. Per il Comune di Milano un evento come Expo per lo sport è perfetto per la città in questo periodo dell'anno in cui le famiglie devono gestire il rientro a scuola e nel mondo sportivo. Questa mattina ho visitato due dei tre luoghi delle Summer School, quindi dei centri estivi totalmente gratuiti, quindi con i costi coperti dagli sponsor che ci aiutano appunto ad aiutare le famiglie che devono gestire il rientro dei bambini in città e nel weekend al Parco Sempione ci sarà un grande momento di festa, quindi due giorni dedicati alla prova sempre gratuita da parte dei bambini di più di 30 discipline sportive nell'ottica poi di fargli provare nuovi sport e di farglieli magari scegliere nel corso di tutto l'anno. La psicologa di Humanitas Medical Care Elisa Morrone racconta l'indagine condotta con Fondazione Humanitas sui disturbi del sonno nei bambini dai 5 ai 14 anni. Negli ultimi anni anche dal punto di vista dell'attività sportiva la ricerca ha deciso di puntare proprio sulla relazione tra qualità del sonno e prestazioni sportive e la ricerca ci dice che avere una buona qualità del sonno migliora le performance sportive, riduce gli incidenti quindi gli infortuni e migliora anche il recupero dopo gli infortuni. È importante soprattutto fare una buona educazione dei nostri bambini considerando che anche qui con l'avanzare del tempo negli ultimi anni ognuno di noi ha perso circa 2 euro di sonno rispetto a 10 anni fa e questo va ad incidere anche sulla performance sportiva e sul benessere psicofisico dei nostri bambini. Domani sera alle 21 sul canale 79 del Digitale Terrestre e di One TV andrà in onda lo speciale dedicato all'edizione 2024 della Sagra di San Lorenzo di Parabiago che però continua con il suo ricco programma fino a lunedì 9 settembre. Elaria Crivelli ci racconta anche questa sera cosa accadrà nella giornata di domani. Per iniziare meglio il weekend, cosa meglio di un ottimo capriolo con polenta alla Sagra di San Lorenzo? Come sempre il ristorante attivo su prenotazione e vi aspettiamo e potete prenotare tramite il sito www.sagradisallorenzo.it Inoltre durante la serata ci sarà tutto un intrattenimento musicale con un gruppo Le Harper Roll. Vi aspettiamo numerosi anche questa sera per continuare i nostri giorni di festa ed iniziare al meglio il weekend. E anche per oggi ci fermiamo qui, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e vi innovo l'appuntamento per domani sera sempre alla stessa ora e sempre sullo stesso canale per una nuova edizione del nostro telegiornale a carattere locale. Buona serata a tutti voi e buon proseguimento di programmi su One TV. Grazie a tutti.